Parliamo dell'imaging che si utilizza nell'urologia. Innanzitutto, anatomicamente, l'apparato urinario è quasi tutto retroperitoneale e quindi parliamo dei reni, della vescica e della vascularizzazione, nonché delle vie scretrici. I reni sono retroperitoneali, si trovano ad altezza di L1 e L2, hanno una lunghezza di 12 cm, una larghezza di 6 cm, la corticale è spessa circa 12 mm, le vie scretrici sono costituite da pelvi, ureteri e uretra. La pelvi è il bacinetto renale ed è costituita a sua volta da calici che coinvogliano l'urina dai reni e ampolla che dà poi origina all'uretere. Gli ureteri sono lunghi 30-35 cm, si collocano nel retroperitoneo ed entrano nella parete posteriore della vescica. Infine abbiamo l'uretra. Per quanto riguarda la vescica, essa è rivestita superiormente dal peritoneo, abbiamo gli sbocchi ureterali postero-inferiormente ed è costituita da fondo, corpo e collo. Parliamo della vascularizzazione innanzitutto arteriosa che è data dalle arterie renali, che sono rami della orta che originano un centimetro sotto la mesenterica superiore. Si divide poi l'arteria renale a livello dell'ilo in arterie segmentari. Per quanto riguarda la vascularizzazione venosa, le vene provengono dal parenchima renale, riuniendosi nel seno renale e dando origine alla vena renale che a sinistra è più lunga, passa davanti alla orta e raccoglie anche poi la vena spermatica. Gli esami strumentali quali sono? La diretta dell'addome, che è un RX senza mezzo di contrasto, l'urografia, che è un RX con mezzo di contrasto, l'ecografia, che è un ultrasuoni che non attraversano però aria ed osso, l'uro-tac, che è l'esame strumentale gold con mezzo di contrasto, la risonanza magnetica, che viene utilizzata per le indagini oncologiche, l'angiografia per l'ipertensione vascolare. In più abbiamo degli esami complementari, quali la pielografia, che si fa durante la cistografia, salendo su col catetere e iniettando il mezzo di contrasto, e la cistografia, che è un'iniezione di mezzo di contrasto a livello uretrale. Non è diagnostica, è invece la PET, ma che si usa solo per il follow-up. La diretta dell'addome è un RX, lo accennavamo prima, senza mezzo di contrasto, che ci permette di vedere solo le ombre renali e la radiopacità. Per quanto riguarda le ombre renali, è utile osservare la piramide formata dai margini interni dei muscoli iliopsoas, perché medialmente ad essi ci sono i margini laterali dei reni. Se c'è un tumore, chiaramente a livello renale, verrà nascosto il margine del muscolo iliopsoas. Per quanto riguarda le radiopacità, esse indicano sostanzialmente calcoli di calcio. Nel 90% dei casi sono questa la causa. Si cercano a livello del giunto pielo-ureterale, a livello dell'incrocio con i vasiliaci e nel meato uretero-vescicale. Se vedo la radiotrasparenza nel paziente anziano, questa può essere indice di sclerolipomatosi, cioè infiltrazione adiposa renale. Per quanto riguarda le indicazioni, questo esame sappiamo essere ormai obsoleto e non più utile. Urografia è un RX con mezzo di contrasto e che viene iniettato a livello endovenoso in via perfusiva, mai in bolo. Valuta bene le vie escretrici e le malattie flogistiche, tra cui la tubercolosi, che tali malattie flogistiche possono dare micro e macro ematuria. Vede bene come esame l'urografia la necrosi delle papille nel paziente diabetico. Ora, per quanto riguarda le fasi contrastografiche, facciamo l'iniezione perfusiva del mezzo di contrasto iodato. Innanzitutto abbiamo una fase nefrografica, dove il sangue arriva al rene e il parenchima è opacizzato. Poi abbiamo una fase di calico-pielografica, dove il mezzo di contrasto viene filtrato e giunge a livello del calice e della pelvi. Poi abbiamo la fase vescicale, in cui il mezzo di contrasto decorre nelle vie escretrici e giunge in vescica. Non si usa anche questo quasi più come esame, è stato sostituito dal loro TAC, a parte la recezioni, tra cui la diagnosi di tubercolosi renale, che dà classici granulomi con aspetto atrifoglio, ematuria non esplorabile con la TAC, quindi piccole lesioni infiammatorie delle vie escretrici, e piccoli tumori degli ureteri, che sono visti molto meglio rispetto alla TAC. L'ecografia, per farla bisogna trovare una finestra tra le coste, è una metodica di prima scelta nel follow-up. Il Doppler viene utilizzato soprattutto per la flussimetria vascolare, mentre l'uretere si vede soltanto se è dilatato, se no è piccolo e sopra c'è l'aria. La vescica invece si vede solo se è distesa, quindi piena di acqua, quindi il paziente non viene fatto urinare per due ore. L'interpretazione come viene fatta? Allora, se abbiamo anecogenicità, c'è liquido, o quindi ci troviamo di fronte a cisti. Se c'è una ipoecogenicità, siamo di fronte a una lesione solida, quindi a un tumore. Se invece abbiamo una iperecogenicità, allora abbiamo una disomogeneità con diverse macrostrutture. Quali sono le indicazioni dell'eco? Chiaramente, l'idroureteronefrosi, perché non possiamo fare il mezzo di contrasto. L'esame morfologico pediatrico e del giovane, perché evitiamo l'utilizzo di, chiaramente, TAC e abbiamo la valutazione di displasia e malformazioni. Il monitoraggio dei trapianti, quindi anche con il Doppler, e il follow-up dei traumi, che non può essere fatto con una somministrazione di TAC quando vogliamo noi. L'ATAC o UROTAC è il gold standard per quanto riguarda questo imaging urologico. In particolar modo, qui il mezzo di contrasto viene fatto in bolo, differentemente dall'urografia, ma prima viene fatta comunque un ATAC senza mezzo di contrasto per ricercare eventuali calcificazioni, indici di calcoli. Posso inoltre fare ricostruzioni 3D. Anche per l'UROTAC abbiamo fasi contrastografiche. Tre fasi in particolar modo. Una fase iniziale arteriosa nefrografica, dove il parenchima è opacizzato, così come la orta. Una fase di equilibrio, dove c'è una, anche detta pielografica, dove è essere opacizzata la pelvi. E infine una fase tardiva, venosa, dove c'è un'opacizzazione vescicale. Le indicazioni quali sono? Innanzitutto anche qui partiamo dal trauma, che è un esame di prima scelta in questo caso, perché nel 50% dei casi abbiamo anche frattura renale. Inoltre, come nel caso dell'eco, si fa per il rene trapiantato, perché serve in questo caso soprattutto per la valutazione delle caratteristiche e dell'andamento del trapianto. e poi si fa per le, chiaramente, essendo un attack per le masse renali, quindi per sospetto clinico, oppure come incidentalome, o per la ricerca di metastasi. E infine per la dislocazione delle riorinarie, dove c'è una perdita appunto della peristalsi, l'uretere va in controinfiammazione e si appoggia sull'iliopsoas, che diventa rettilineo in questo caso. Risonanza magnetica nucleare è l'alternativa all'attack nel caso dei tumori. In particolar modo viene fatta con mezzo di contrasto anch'essa e l'attack ha una risoluzione spaziale che discrimina meglio due punti vicini, mentre la risonanza magnetica vede meglio il contrasto, quindi vede meglio i tessuti molli. L'attack vede sempre le vie scretrici, la risonanza magnetica vede i calici e la pelvi solo se dilatati. Le indicazioni sono, come per l'attack, le masse renali, anzi, la massa renali è l'indicazione principale, dopodiché la stadiazione, sempre per quanto riguarda il carcinoma, e, così come per l'attack e per l'eco, la valutazione delle complicanze post-trapianto e post-operatorie, mentre l'indicazione, perlomeno caratteristica della risonanza magnetica, non condivisa con le altre metodiche, che è la diagnosi differenziale tra cisti benigne e cisti neoplastiche. Poi abbiamo altre metodiche, l'angiografia, che viene fatta con cateterismo selettivo dell'arteria renale. Le indicazioni sono, appunto, manovre interventistiche nell'ipertensione nefrovascolare e l'embolizzazione dei tumori renali. Poi abbiamo la pielografia, che anche questa viene fatta con iniezione di mezzo di contrasto a livello ureterale tramite guida cistoscopica. Le indicazioni quali sono lo studio delle vie scretrici nel rene escluso e le manovre interventistiche a livello delle vie scretrici, per i calcoli soprattutto. Infine, la cistografia, dove si fa iniezione di mezzo di contrasto in vescica e poi si va a fare un RX. Anche qui le indicazioni sono la valutazione della dinamica minzionale, soprattutto nella donna, e la valutazione dei riflussi vescico-ureterali, dove vedo il mezzo di contrasto refluire lungo gli ureteri. Poi concludiamo con la PET, in cui abbiamo solo nel follow-up, che utilizziamo solo nel follow-up terapeutico-oncologico. Quali sono le patologie del tratto genito-urinario? Allora, litiasi, tumori del rene, tumori dell'urotelio e della prostata, traumi, flogosi, ipertensione nevrovascolare, dismorfie renali con malformazioni del parenchima, displasie renalicistiche e nefropatie interstiziali. Per quanto riguarda la litiasi, colpisce il 15% della popolazione maschile ed è causa ovviamente di coliche renali, quando il calcolo si inculia nell'ureteria a livello del giunto pielureterale, dell'incrocio con i vasiliaci e a livello dello sbocco vescicale. I calcoli possono essere di vario tipo, radiopachi e in particolar modo quelli con ossalato di calcio e cistina, radiotrasparenti invece quelli di urato e quindi acido urico. La diagnosi strumentale come viene fatta? Vabbè, la diretta dell'addome ci permette di valutare il calcolo, così come è con una sensibilità del 60%, però vede solo la radiopacità. Da sola è insufficiente quindi per la diagnosi e può essere utile solo in pazienti che hanno già nota l'itiasi. L'ecografia invece ha una sensibilità del 40% e vede tutti i calcoli che sono iperecogeni e sono seguiti da un cono d'ombra posteriore. Inoltre, valuta anche la dilatazione delle vie scretrici e il follow-up. Cosa ne consegue? Che sommando la diretta dell'addome all'ecografia, associandola, abbiamo una sensibilità complessiva dell'80% che è sufficiente per fare diagnosi. Le altre metodiche sono la TAC, la risonanza magnetica e l'urografia. La TAC è il gold standard perché ha una sensibilità del 96% e chiaramente valuta anche le complicanze renali e perirenali. Quindi va sempre fatta solamente se alla colica è associata la febbre oppure se la colica persiste. La TAC è chiaramente fatta senza mezzo di contrasto perché l'eventuale mezzo di contrasto si fa per approfondire e ricostruisce tutta quella che è la via urinaria. La risonanza magnetica la utilizziamo per l'alitiasi ma solamente per la gravidanza e la diagnosi differenziale con altre cause di dolore e infine l'urografia che diciamo essere assolutamente obsoleta. Le diagnosi differenziali sono fatte con l'appendicite che però ha indici lavoratoristici sballati e con la flebolitiasi che non è altro che la presenza di radiopacità simile al calcolo che però è da scrivere più a una dilatazione delle vene varicose vicino all'uretere. Poi parliamo dei tumori renali che sono il 3% dei tumori e in particolar modo ricordiamo tra questi l'oncocitoma che è un tumore tondo con radiascar e infine c'è il tumore a cellule chiare che invece è caratterizzato da un centro necrotico emorragico perché comunque è una massa molto vascolarizzata. Tali tumori colpiscono di solito il sesso maschile per pazienti che hanno un'età superiore ai 65 anni sono asintomatici fino a che non raggiungono le grandi dimensioni poi e chiaramente poiché sono asintomatici fino a raggiungimento di grandi dimensioni di solito sono incidentalomi quindi di riscontro occasionale se però infiltrano le vie escretrici abbiamo chiaramente dei sintomi che è possibile in questi casi è possibile quindi anche una diagnosi precoce. Abbiamo detto prima come facciamo la diagnosi la facciamo attraverso l'utilizzo dell'attac soprattutto con mezzo di contrasto che è il gold standard e la risonanza magnetica nucleare viene ad essere interpellata anche l'eco però l'eco si ha una maggiore probabilità di riscontro della massa anche se non è il gold standard ma perché il paziente magari fa un eco per altri motivi e il tumore viene a essere il riscontro incidentale quindi questo si verifica nel 60% dei tumori renali l'eco vede bene le cisti e quindi può dare comunque molti falsi positivi e negativi l'ecodopler è utile per valutare la vascolarizzazione del tumore il tumore appare ipovascolarizzato anche se in realtà è molto ben vascolarizzato pur comunque essendo meno vascolarizzato rispetto al resto del parenchima renale l'attac con mezzo di contrasto abbiamo detto è il gold e serve per la valutazione e la stadiazione della massa in particolar modo ci chiediamo se è infiltrato la capsula se è infiltrato la fascia del gerota se è infiltrato in generale la loggia per il renale e infine se ha dato metastasi è una metodica rapida e con elevata risoluzione che ha tre fasi la fase arteriosa che determina un'opacità delle arterie la fase di equilibrio è una fase venosa dove c'è opacità del rene a livello venoso e delle vie scrittrici la risonanza magnetica la utilizziamo complementariamente alla TAC per lesioni piccole e in pazienti in cui è controindicata la TAC ricordiamo sempre che si fa sempre anche la Rx TAC torace per cercare le eventuali metastasi polmonari da tumore primitivo renale piccolo focus inoltre sulla classificazione di Bosniak che dà dei criteri diagnostici alla TAC per la valutazione delle cisti renali in particolar modo definisce quattro categorie la categoria 1 che è quella delle cisti benigne con parete sottile chiaramente omogenea e che non captano mezzo di contrasto poi la categoria 2 è una categoria di cisti probabilmente benigne con setti sottili piccole calcificazioni ma dimensioni minore ai 3 cm non captazione del mezzo di contrasto poi abbiamo la categoria 2F che è probabilmente benigna ma è richiesto un follow up anche qui abbiamo setti sottili che diventano molti le calcificazioni da piccole diventano di medie dimensioni la massa aumenta e inoltre abbiamo un liquido iperdenso e non captano ancora mezzo di contrasto mentre la categoria 3 ha un 50% di probabilità di essere maligna con calcificazioni che sono spesse e irregolari i setti non sono più molti e sottili ma sono proprio spessi e inoltre c'è un inizio di captazione del mezzo di contrasto la categoria quarta invece fa riferimento alle cisti maligne che sono come la categoria terza quindi calcificazioni irregolari alto spessore captante il mezzo di contrasto però in aggiunta abbiamo anche masse nodulari solide o solide o intracistiche masse nodulari o solide intracistiche i tumori uroteliali sono il 70% dei tumori urologici in generale sono a livello vescicale il 5% è a livello delle vie scretrici la diagnosi strumentale come viene fatta in presenza di ematuria noi facciamo prima di tutto l'eco perché chiaramente possiamo avere una massa iperecogena che va in diagnosi differenziale con eventualmente la cistite emorragica soprattutto nella giovane donna dopo aver fatto l'eco vediamo sta massa iperecogena allora andiamo all'attacco a fare attacco mezzo di contrasto che ha sostituito l'urografia fatta eccezione per i piccoli tumori dei calici allora abbiamo anche qui dicevamo valutiamo le dimensioni la localizzazione e l'invasione e facciamo la stadiazione se serve la risonanza magnetica vede meglio l'invasione dei muscoli tipo l'iliopsoas eccetera se a livello ureteriale mentre altro se andiamo a livello vescicale quindi a livello vescicale vede bene l'infiltrazione della tonaca muscolare tumori della prostata l'imaging si basa sull'ecotransrettale e sulla risonanza magnetica l'ecotransrettale in particolar modo vede area ipoecogena che non si vede sempre e si utilizza l'ecotransrettale anche per fare la biopsia guidata per la stadiazione usiamo la TAC la risonanza magnetica viene fatta con una bobina endorettale che permette una massima risoluzione però si possono evitare con nuove macchine la risonanza magnetica con spettroscopia mostrerà un picco alla colina inoltre valutiamo anche la necrosi papillare che può essere causata da ischemia infezioni diabete mellito da coliche renali e la valutiamo tramite urografia e urotac la diagnosi differenziale della necrosi papillare è con la tbc renale perché forma delle caverne nel parenchima renale pienonefriti acute all'imaging abbiamo l'eco abbiamo l'attac col mezzo di contrasto e la risonanza magnetica nucleare l'ecografia ci permette di valutare il parenchima del rene e le vie urinarie e aumenta la sua sensibilità col doppler l'attac col mezzo di contrasto invece è il gold standard soprattutto perché ci fa vedere meglio le complicanze la risonanza magnetica vede bene il parenchima l'ascesso renale non è altro che una complicanza della nefrite lo valutiamo l'ascesso con l'ecografia e con l'attac in particolar modo l'attac vedremo una raccolta ipodensa con bolle gassose poi abbiamo l'infarto renale che può essere distrettuale o totale da tromboembolia e aneurisma renale in particolar modo lo valutiamo con l'ecodoppler e con l'attac col mezzo di contrasto per l'ecodoppler chiaramente nell'infarto non avremo segnale nell'attac con mezzo di contrasto vedremo in una fase acuta la zona cuneiforme ipodensa in una fase cronica invece il rene sarà grinzoso comunque più piccolo l'ipertensione nefrovascolare colpisce il 5% dei pazienti ipertesi quindi il 5% dei pazienti ipertesi è tale per causa nefrovascolare nefrovascolare perché? perché magari abbiamo una stenosi da ateroma dell'arteria renale quindi aterosclerotica oppure per magari una fibrodisplasia della tonaca media all'imaging noi cosa facciamo? prevalentemente l'ecodoppler che ci mostra l'atterazione del flusso e in base alla vascularizzazione delle renali posso cercare la stenosi oppure l'angiotac barra angio rmn che hanno una sensibilità al 90% quindi sono l'esame diagnostico se dobbiamo fare un intervento usiamo direttamente l'arteriografia renale oppure un altro test è la scintigrafia renale con test alcaptupril traumi renali lo scopo qual è? è valutare se il trauma non è chirurgico nel 95% dei casi oppure lo è nel 5% dei casi in particolar modo è chirurgico se è associato spesso quando associato ad altri traumi in particolar modo provoca la disinserzione quando è stata causata la disinserzione del peduncolo vascolare e magari lo spappolamento renale i traumi renali possono essere in particolar modo di quattro categorie la prima è per l'80% dei casi è una contusione dove abbiamo un ematoma parenchimale o sottocapsulare nel secondo caso cioè il 10% dei casi abbiamo lacerazioni quindi ematomi extrarenali nel 5% dei casi abbiamo invece lesioni gravi a livello capsulare e quindi nel 5% dei casi dicevamo queste prime tre lesioni non richiedono chirurgia se c'è invece come succede nel 2% dei casi e quindi nella quarta casistica la vulsione pielureterale si forma l'urinoma ed è richiesta chirurgia ora l'iter diagnostico è questo il paziente è stabile o instabile se è stabile ha un trauma maggiore o un trauma minore se ha un trauma maggiore si fa l'attac se ha un trauma minore si fa l'eco così come se il paziente è instabile non c'è tempo per fare l'attac si fa direttamente l'eco se l'eco è negativo si osserva e si aspetta se è positivo si fa la chirurgia la diagnosi strumentale invece viene fatta attraverso l'attac e l'eco appunto abbiamo detto l'attac vede anche le fratture e gli altri organi l'eco nel follow up il sanguinamento come lo vedremo in particolar modo iperecogeno sarà all'eco e iperdenso all'attac quindi come reperti sappiamo che possiamo trovare la contusione che quindi la vediamo come all'eco iperecogeno il rene è all'attac iperdenso l'ematoma intrarenale l'ematoma sottocapsulare a semiluna l'ematoma perirenali da rottura capsulare è perirenale se nella fascia del gerota pararenale se invece supera la fascia di gerota poi abbiamo le fratture che possono essere superficiali se riguardano la corticale profonde se arrivano a coinvolgere anche la midollare e infine la rottura del peduncolo vascolare parliamo poi delle dismorfie renali che sono anomalie morfologiche spesso asintomatiche come possono essere la fusione dei reni l'anomalia di sede il rene a ferro di cavallo in particolar modo per la fusione dei reni abbiamo una mancata separazione primitiva con alterazione durante l'ascesa quindi li troviamo più in basso del normale e fusi le anomalie di sede riguardano l'ectopia pelvica dove c'è proprio una mancanza di risalita l'ectopia crociata dove c'è una deviazione verso il lato opposto con risalita e la distopia dove c'è un difetto di rotazione infine abbiamo il rene a ferro di cavallo con fusione dei due poli inferiori associato a un difetto di risalita il rene a ferro di cavallo è più frequente nella sindrome di Turner e ha una maggiore incidenza del tumore di Vins può avvenire anche questa fusione grazie a una banderella fibrosa e abbiamo delle varianti a seconda di dove essa si colloca cioè il rene ad H quando la fusione è nel mezzo il rene a ferro di cavallo invertito quando è a livello del polo superiore e non inferiore oppure in entrambi i poli fusi quindi si parla di rene a krapfen o ciambella le malformazioni parenchimali quali sono invece la genesia dove la plasia e l'ipoplasia nell'ipoplasia il rene è semplicemente ridotto di dimensioni e questo per esempio è una conseguenza della pielonefrite la plasia invece è un rene che è presente ma non funzionante perché magari mancano le vie scretrici e se bilaterale chiaramente non è compatibile con la vita la genesia è l'assenza di un rene di solito con ipertrofia dell'altro che diventa palpabile parliamo poi delle displasie renalicistiche tra cui il rene policistico che viene diagnosticato con tacche con la risonanza magnetica nucleare anche se già l'eco ci può far vedere molto il parenchima in questo caso è sostituito da cisti e l'uretere è praticamente atresico possiamo avere il rene policistico homo zigote che lo troviamo nel bambino che causa in questi casi morte dopo pochi giorni se non si fa il trapianto e all'eco vediamo iper-ecogenicità cioè ci sono talmente tante cisti che dovrebbero essere di norma anecogene che però noi vediamo il parenchima normale vediamo le continue rifrazioni delle superfici delle cisti l'interfaccia tra le cisti è eterozigote il rene policistico invece è visibile nell'adulto qui sarà bilaterale chiaramente causa di sufficienza renale cronica le cisti sono tante ma le vedo anecogene per quanto riguarda ricordiamo il rene omozigote infantile esso può essere associato a meningocele sindattilia e anomalie oculari infine concludiamo con le nefropatie interstiziali che sono ne parlavamo prima la necrosi della papilla che è la stessa clinica della colica renale l'infarto renale causato da trombosi anemia falciforme e l'ascesso renale che è una complicanza della nefrite che valutiamo con eco e tac che